C'è la disponibilità di attivare un ambulatorio mobile in piazza della Concordia Salerno per consentire ai cittadini salernitani di effettuare tamponi e vaccini anti-influenzali. L'Associazione Humanitas accoglie la proposta lanciata dal consigliere comunale di Salerno Antonio Cammarota, presidente della Commissione Trasparenza, di istituire presidi mobile in città per i tamponi anti-covid e il vaccino anti-influenzale. Proposta già in consiglio comunale all'attenzione del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, l'ipotesi di avere postazioni in strada anche con un servizio drive a cui dovrebbe aggiungersi anche l'immediata istituzione dell'USCA, unità speciale di continuità assistenziale, servirebbero a garantire una maggiore sicurezza sanitaria alla città in un momento in cui l'Asle e le strutture sanitarie del territorio sono in difficoltà nel processare i tamponi. Lo abbiamo proposto al sindaco in consiglio comunale e gli abbiamo detto che è possibile attivare delle strutture mobili sul territorio per superare la sclerotizzazione dell'Asle che per un vaccino da appuntamenti a 40 giorni e per i tamponi costringe le famiglie ad attendere soltanto per i tamponi di verifica quarantene preventive che paralizzano la vita delle famiglie e soprattutto la nostra economia. La mia proposta era quella di coinvolgere gli operatori sul territorio, quelli che hanno i mezzi e la possibilità di farlo e creare delle strutture mobili tipo Piazza della Concordia o Piazza San Francesco insomma dove ci sta la possibilità di non fare assemblamento dannoso e far fare i tamponi e i vaccini senza stendere questi tempi lunghissimi che invece la struttura sanitaria al collasso impone. Alla sua richiesta ha già trovato replica la possibilità da parte dell'Associazione Humanitas di rendersi disponibile sul territorio? Io di questo sono contento però prendo anche atto dell'assoluta inerzia da parte delle istituzioni a chiamare l'Humanitas perché il problema è questo, noi facciamo proposte concrete però adesso il sindaco si muova e coinvolga l'Humanitas e tutte quelle altre strutture mobili sul territorio che siano in grado e in condizione di fare questo perché la pandemia è un problema che riguarda tutti e tutti ci dobbiamo rimboccare le maniche per cercare di risolverlo. Noi ormai sono mesi e mesi che stiamo combattendo con il Covid-19 in prima linea, stiamo facendo un lavoro eccezionale con i nostri ragazzi e abbiamo dato la disponibilità alla città di Salerno, al sindaco di Salerno per quanto riguarda la problematica di avere un ambulatorio per esempio a Piazza della Concordia dove la gente può arrivare con facilità, può fermarsi e può accedere a questo mezzo particolare che è un largo 50 metri quadrati ha tre ambulatori interni, tutto gratuitamente per la città di Salerno e mettere in condizioni la gente di Salerno di stare in tranquillità. Si potrebbero effettuare anche dei tamponi direttamente in auto così come sta accadendo in altre città? Ma possiamo mettere un'altra unità a parte che fa solo i tamponi così non si confondano quelli che fanno il test influenzale con quelli che fanno il tampone, mettiamo una seconda unità che possa fare questo. Noi abbiamo tanti mezzi, tanti mezzi che abbiamo raccolto negli anni con i fondi dati dai salernitani e dalla provincia di Salerno. Ecco, è peccato che due già di questi mezzi sono stati utilizzati in Basilicata tutti i giorni, un altro sta a Roma e adesso questo me lo stanno chiedendo tutti. Io ho detto fermatevi un attimo che la voglio utilizzare nella mia città, Salerno. Roberto Schiavone l'ha impegnato in prima linea nella lotta all'emergenza Covid. Qual è la situazione e quali difficoltà state incontrando soprattutto negli ultimi giorni? Le difficoltà che stiamo incontrando è che c'è una disorganizzazione, ci chiamano poverini questi del 118 ma poi arriviamo in un ospedale, lo chiudono, poi lo riapriamo, siamo 4, 5, 6 ore con il malato all'interno dell'autombulanza. Io l'ho detto già qualche mese fa, fuori dagli ospedali mettiamo delle tendo strutture dove i pazienti vengono portati lì. Vengono isolati, c'è un triage, quelli che sono Covid poi vengono trasferiti dove andare, ma le ambulanze devono essere liberate immediatamente.